Un nuovo aggiornamento commuoversi in Toscana, buona serata da Mauro Ciutini, un incidente segnalato sul raccordo Siena-Firenze, siamo tra Castelnuovo, Berardenga e la colonna del Grillo in direzione del raccordo di Bettolle. Veniamo alla strada di grande comunicazione, il traffico è lento tra Firenze-Scandici e la Strassigna in direzione di Livorno, un veicolo in avaria in A12, la Genova-Rosignano tra Rosignano e Cole Salvetti in direzione di Livorno. Passiamo alla 11, viabilità esterna che non riceve tra Sesto-Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. E ci sono ancora rallentamenti in A1 dopo un incidente tra Firenze-Sud incisa a Reggello in direzione di Roma. Traffico ancora lento a Firenze e sui viali di circonvalazione in entrata e in uscita città. E per quanto riguarda i lavori, in via della Scala l'entrato da via dei Ruccellai a via le Fratelli Rosselli, da oggi a giovedì, in orario notturno sarà istituito un restringimento di carreggiata con revoca della corsia preferenziale. È tutto muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A dopo!